Direi semplicemente che bisogna rimboccarsi le mani, che siamo una generazione che si trova ad affrontare una crisi dal 2008, io sono del 1998, quindi insomma sono vissuta con la crisi da quando andavo a scuola. È un mondo diverso rispetto a quello in cui vivevano i nostri genitori, per cui dobbiamo affrontare delle conseguenze. Sono un po' più creativi, forse anche un po' più forti e capati rispetto alle generazioni precedenti.